Cosa ti spinge a venire al festival e il film dei diritti umani? Questo, vedere il lavoro di queste persone che probabilmente non sarebbe così facile a trovare online o in altri cinema, è veramente una vetrina importante, la possibilità di scoprire tantissime cose, approfondimenti politici, scopro delle cose che non potrei scoprire altrimenti, diciamo. Cosa ti spinge? Cosa ti spinge? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sinceramente inizierei dall'asilo, dalle scuole e magari anche dalle famiglie. È stato un film molto toccante vedere cosa subiscono le persone. A me è un po' impressionato perché non credevo fosse così drastica la situazione per le manifestazioni in Russia. Io probabilmente manifesterei comunque perché sono... È stato anche molto interessante il dibattito e quindi una bella esperienza. Per me ricevere un premio come quello qui al Film Festival Diritti Umani di Lugano è un onore personale. Ma io sono niente. Quello che voglio dire è che la storia che condivido è ben più grande di me ed è una cosa che ho sempre saputo. Buongiorno. 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 Buongiorno.